Come vi ho raccontato in un video precedente, sto sistemando la mia collezione disneyana in una nuova collocazione e tra le varie chicche che sono riuscito a scopare in mezzo a tutti gli albi disneyani in mio possesso, ecco che sono riuscito a trovare la versione originale ed è I pensieri di Pippo, di cui tempo fa vi avevo mostrato l'unboxing dell'edizione della Panini. Sto infatti parlando dell'edizione Oscar Mondadori, pubblicata nel 1970, quella con la prefazia di Ranieri Carano e introdotta da Mario Gentilini, all'epoca direttore di Topolino. I contenuti sono ovviamente identici rispetto alla ristampa Panini, come vediamo queste pagine che sto sfogliando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.